Ultimo giorno di allenamento oggi per la SEAP da Ricardillo Aragona in vista della partenza per il Molise di domani mattina. La capolista del campionato di Serie B1, Girone D, sabato 16 novembre alle 15.30, sfiderà l'Europa 92 Sernia al Palavarazzi di Boiano, piccolo centro in provincia di Campobasso. La SEAP da Ricardillo Aragona ha preparato la partita al massimo delle proprie potenzialità con l'obiettivo di provare a portare a casa la vittoria. Coach Luca Secchia, tutte le giocatrici a disposizione, recuperata anche la palleggiatrice Martina Baruffi che sarà dunque convocata per la sfida contro le Isernine al Palavarazzi di Boiano. La SEAP da Ricardillo Aragona troverà di certo un ambiente caldo, carico e un avversario che farà di tutto per fare lo sgambetto alla prima della classe. La società Isernia sulla propria pagina Facebook ha presentato la partita postando un paio di foto con i volti delle giocatrici e non solo della SEAP da Ricardillo Aragona. Accompagnate da frasi del tipo l'invingibile armata, gara proibitiva, il cuore. Oltre all'ostacolo per tentare l'impossibile sabato ci aspetta una tempesta, una partita per giocatrici vere. Per l'Isernia si tratta quindi della partita dell'anno, per la SEAP da Ricardillo Aragona sarà una come tutte le altre e come tutte le altre le biancazzurre faranno di tutto per portare a casa i tre punti.